Estra ampia la possibilità di rateizzazione a seconda del peso della bolletta. Dopo le segnalazioni delle scorse settimane di maxi bollette di gas per uso domestico, adesso il gestore tende la mano alle famiglie e alle imprese, aumentando il numero di rate per pagare le bollette superiori a 150 euro, emesse dal 1 gennaio al 31 marzo. In merito al caso si era già mossa a fede ai consumatori, con un esposto alle autorità garanti ed il sindaco di Arezzo Ghinelli, che invece aveva chiesto un'assemblea straordinaria di Coingas, che di estra è azionista. Bisogna trovare una soluzione e un sostegno per queste famiglie già così gravamente colpite da un'inflazione galoppante che, voglio ricordare, ha raggiunto il 12%, un'inflazione che non vedevamo più ormai da anni. Le famiglie devono scegliere se comprare la carne, se pagare le bollette, una situazione così grave e insostenibile. Vedersi arrivare delle fatture per un consumo anche stimato, solo stimato, quindi non effettivo, estremamente elevate, addirittura quadruplicate, è assolutamente insostenibile per le famiglie. Adesso la nuova modalità di rateizzazione, attiva già dalla scorsa settimana. La richiesta può essere fatta da tutti i clienti domestici, esercenti, professionisti, artigiani ed associazioni, e potrà essere applicata alle bollette in scadenza o al massimo scadute da 10 giorni. Non sono previste spese nei interessi moratori per i clienti. Si possono rateizzare le bollette con varie modalità, con un piano che può arrivare fino a sette rate nel caso di importi superiori a 2.500 euro. Per richiedere la rateizzazione è necessario rivolgersi al servizio clienti, recandosi presso gli uffici al pubblico di Estra oppure chiamando l'800-128-128 o lo 02-82-70 attivi da lunedì al venerdì dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13.